Ragazzi in questo video voglio raccontarvi una considerazione tutt'altro che banale anzi molto interessante che sto avendo, sto riscontrando provando i telai test di Michele Favalori, Dr. SP perché in questi giorni sto provando la versione teoricamente più rigida ovvero quella con un tubo orizzontale molto grosso e dritto sezione triangolare molto grossa un tubo piantone che parte molto grosso anche questa sezione triangolare che va su leggermente inquirvandosi all'indietro e sfinandosi un pochettino fino alla sella, non c'è il telescopico e regi sella integrato, tagliato a misura e un carro posteriore, soprattutto un fodero alto molto spesso, quindi molto rigido e teoricamente reattivo in effetti io ho detto Michi, reattività spaventosa mai visto una roba del genere se no con una bici da strada su strada è spaventosa, è bellissima da guidare in giocattolino sembra più leggera di quella che è, bellissima però nel guidato si sente che assorbe un po' meno, ci sta tutto però Michi è successa una cosa strana perché in salita, sullo sconnesso, o comunque sul pedalato sconnesso nel momento in cui io sto seduto ben piantato sulla sella questa bici qua assorbe di più dell'altra ovviamente tutto questo ha parità di sella ha parità di gomme, ha parità di ruote, ha parità di pressione ha parità di tutto ovviamente questa mica assorbe di più io ovviamente prima di dirglielo ho pensato caspita, l'unica cosa che questa ha di diverso cioè, che dovrebbe essere più rigida in realtà non lo è forse il tubo piantone che essendo un tubo piantone integrato con un singolo tubo in carbonio studiato in maniera tale da assorbire caspita, però non mi aspettavo così tanto io l'ho detto a Michele sì, lui mi fa logicamente un tubo che arriva fino all'orizzontale e dall'orizzontale in poi c'è il telescopico che è un piombino di pieno in cui c'è dentro anche idraulica è molto pesante è molto più rigido il telescopico a livello di assorbimento rispetto a un tubo piantone unico che parte dal movimento centrale che arriva fino alle sella soprattutto studiato in maniera tale da assorbire ma non è finita qui quindi vabbè Michele tanta roba, tanta roba niente, dopo passato un giorno una notte stamattina ci mettiamo lì a giocare un po' sulle geometrie della mia futura bici e io gli ho detto ma Michele ma ascoltami me ma sfruttiamo sta cosa qua perché comunque io il telescopico lo vorrò su quello è un punto fermo però possiamo sfruttare questa mia sensazione questo risultato qua dal tubo piantone cioè facciamo una cosa se invece di andare a tagliare il tubo piantone qua come un classico telario tradizionale in cui ti dicono inserisci un reggisella telescopico in modo tale che arrivi sotto il carro in modo tale da non spaccare tutto eccetera eccetera noi lo tagliassimo qua il tubo piantone e inserissimo il telescopico nella parte alta del tubo piantone stesso e in modo tale che avanzi fuori solo 10 centimetri e 10 centimetri di escursione del telescopico stesso solo allo stello praticamente noi andiamo a fissarlo qua con un altro tubo interno di carbonio perfettamente cilindrico che va appunto dall'occiare telescopico però lo stringiamo qua in modo tale che c'è comunque una parte di tubo piantone che va a lavorare in maniera tale da sorbire un pochettino le vibrazioni le sollecitazioni e Michele mi guarda e mi fa è certo come dire è gran male è certo che facciamo così io venendo dai telari tradizionali ho sempre pensato tagliati lì appena sopra l'orizzontale mi è venuta in mente questa cosa qua sembrava che avevo scoperto l'acqua calda e Michele mi fa guarda che realtà io faccio sempre così vabbè la fortuna la fortuna di poter fare un telario su misura eccola qua e anche in queste piccole cose